Lettura del Vangelo di domenica 29 settembre 2019 Dal Vangelo secondo San Luca In quel tempo Gesù disse ai farisei C'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali ma ora in questo modo lui è consolato tu invece sei in mezzo ai tormenti per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso coloro che di qui vogliono passare da voi non possono né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò Allora padre ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre perché ho cinque fratelli li ammonisca severamente perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose Hanno Mosè i profeti ascoltino loro E lui replicò No padre Abramo ma se dai morti qualcuno andrà da loro si convertiranno Abramo rispose Se non ascoltano Mosè i profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. È parola del Signore Commento del sacerdote Don Dolindo Ruotolo La parabola del ricco e pulone Per imprimere meglio nei cuori il capovolgimento che avviene dinanzi a Dio di ciò che il mondo stima grandezza e ricchezza e per mostrare più efficacemente quale uso si deve fare delle ricchezze Gesù raccontò una parabola bellissima che è una vera rivelazione del mistero della vita futura in ordine alla vita che conduciamo in terra. C'era un uomo ricco tanto ricco che vestiva come un re di porpora e di finissimo lino di Egitto chiamato Bisso Era un gaudente e ogni giorno faceva splendidi banchetti Alla porta del suo sontuoso palazzo dove era un povero chiamato Lazzaro il quale era piegato sfinito e affamato e assettendo il profumo delle vivande del ricco desiderava almeno averne gli avanzi e nessuno gliene dava Andavano da lui i cani alle caglie e le piaghe forse i cani del palazzo stesso del ricco il che dimostra che erano considerati più del povero Lazzaro non aveva neppure la forza di allontanarli e forse aveva da essi soltanto un sollievo al prurito delle sue piaghe Ecco una vita splendida e una vita infelicissima agli occhi del mondo ma dinanzi a Dio la cosa era immensamente diversa Morì infatti il povero e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo cioè nel limbo dove i giusti in compagnia di Abramo attendevano che il Redentore aprisse loro le porte del cielo Era un luogo di felicità e di pace naturale immensamente superiore a qualunque stato di terrena felicità Dopo poco tempo morì anche il ricco e fu sepolto nell'inferno La sua vita dissoluta aveva prodotto il suo frutto di morte ed egli tra le fiamme dell'inferno soffriva orribili tormenti Dal luogo della sua perdizione così permettendolo Dio vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno cioè in una sua felice compagnia Quale contrasto con la vita misera che quel povero aveva condotto e con la vita tormentosa che il ricco attualmente viveva Questi sperò almeno un minimo sollievo fra le pene che soffriva e rivolgendosi ad Abramo quale capo del popolo cui apparteneva lo supplicò di mandargli Lazzaro perché avesse intinto la punta del dito nell'acqua e gli avesse refrigerato la lingua perché bruciava nelle fiamme Abramo gli rispose con una sentenza che non ammetteva repliche egli aveva ricevuto bene nella vita mortale e non aveva compiuto opere sante Lazzaro aveva ricevuto tribolazioni e le aveva sofferte in pace per amore di Dio Ora la situazione si era irrimediabilmente capovolta perché lo stato dell'eternità è immutabile e non poteva mai avvenire che Lazzaro avesse potuto sollevarlo per l'abisso incolmabile che separava lo stato di salvezza da quello della perdizione il povero ricco non potendo avere egli un sollievo si preoccupò di cinque fratelli che aveva e supplicò Abramo di mandare Lazzaro ad avvertirli perché conducevano anch'essi una vita sontuosa e non voleva che avessero la sua stessa sorte Abramo non disse che Lazzaro non sarebbe potuto andare da loro ma replicò che avevano già Mosè e i profeti e potevano salvarsi la luce delle loro parole Enrico insistette che se avessero avuto l'avviso salutare da un morto avrebbero fatto penitenza gli sembrò che l'apparizione di un'anima felice come quella di Lazzaro e l'avviso della propria perdizione l'avrebbe scossi ma Abramo gli disse decisamente che se non credevano a Mosè e ai profeti non avrebbero prestato fede neppure a un morto risuscitato ecco la precisa condizione della vita e dell'eternità su questa terra si subisce una prova durante la quale bisogna preoccuparsi non di godere ma di compiere il bene le sofferenze che vi subiamo non sono un'infelicità ma un mezzo per meritare e producono in proporzione la felicità eterna chi soffre chi soffre la somiglianza di Lazzaro non è un desiderio dato ma un privilegiato e chi gode sfrenatamente ha poi la spaventosa sorpresa di trovare nell'altra vita la perdizione il ricco e pulone disprezzava il povero eppure era proprio lui degno di commiserazione la sua vita si ridusse a un continuo banchettare mentre quella di Lazzaro fu un continuo veritare per la sofferenza e per la pazienza chi si vede tra le pene dunque non deve disperarsi ma deve sollevare gli occhi alla vita eterna e tendere ai gaudi eterni che sono l'unica e vera gioia e chi sta tra le gioie della vita presente non deve dimenticare l'eternità e deve procurare di farsi amici nel cielo con le opere di carità ricco e pulone dal luogo dei tormenti vuole giovare ai suoi fratelli non fece un atto di virtù soprannaturale del quale era incapace ma un atto di compassione naturale verso i suoi fratelli anche i dannati possono avere simili sentimenti perché i vincoli naturali perdurano in eternità ma a chi giovava la sua premura e a chi avrebbero giovato ai suoi fratelli anche la visione di un morto redivivo erano increduli alle parole di Mosè e dei suoi profeti e avrebbero creduto illusione in l'apparizione di un morto avviene proprio così a quelli che ostinatamente conducono una vita giordinata sono duri e insensibili a qualunque avviso e svalutano ogni intervento soprannaturale credono realtà la loro vita insulsa e credono un'illusione quello che è divino ed eterno è necessario che noi ci preoccupiamo di questi poveri infelici che preghiamo ardentemente per la loro conversione non invidiamo mai la sorte dei gaudenti ma abbracciamo con rassegnazione la nostra croce e ringraziamo Dio quando la nostra vita non ci dà nulla che importano pochi anni di effimere gioia che sono poi sempre cosparse di fiela malissimo che cosa valgono gli onori della terra di fronte alla gloria eterna che aspettiamo è sintomatico che nella parabola è ricordato solo il nome del povero e quello del ricco è sepolto nell'oblio se in terra può rimanere infatti un nome glorioso non è quello dei grandi del mondo ma quello dei santi del cielo diseredati e disprezzati del mondo concepire la propria vita sotto un aspetto tutto materiale significa concepirla in modo animalesco le bestie non avendo un eterno avvenire non hanno aspirazioni che trascendono la vita nel tempo se si nota non c'è nella creazione un solo animale che faccia qualcosa che superi il tempo della sua vita o che faccia un'opera seppur di mentale per lasciare qualcosa di sé dopo la morte si preoccupa della sua vita della conservazione della specie solo per istinto che gli da Dio mangia beve e lavora unicamente per questo l'uomo mostra la sua aspirazione all'eternità nelle stesse opere che compie e lascia qualche cosa di sé nel suo lavoro per non far perire la sua memoria è un sintomo dell'immortalità cui tende ora qual mezzo più grande per immortalarsi quanto salvarsi l'anima non sono le ricchezze che ci salvano ma le opere buone le opere di carità bisogna dunque vivere santamente e quando Dio ci dà le ricchezze bisogna mutarle con la verità in tesori del cielo se i ricchi ponderassero i pericoli della loro condizione non si glorerebbero di essere ricchi e aspirerebbero al crescimento dei loro beni materiali ma diverrebbero quali sono fattori del Padre Celeste per soccorrere i poveri e i sofferenti quale dono è sulla terra lo stato di santa povertà e di rassegnata sofferenza che ci apre le porte del cielo di rassegnata che ci apre a Grazie.